Buona domenica a tutti gli amici della Poconotomia. Oggi è una rasatura un po' così, improvvisata, nel senso che ho mischiato un po' di ingredienti. Partiamo dal rasoio Q-Shave. Q-Shave è il modello black a farfalla che ricorda che ricorda un po' le gilette. Questo è un gilette vintage, tanto per capirci. Ricorda molto da vicino questo genere di testa, molto molto da vicino e anche quando in posizione chiusa per manico lungo. Vedete che più o meno siamo lì. Q-Shave, una rasoio cinese. Lo amiamo con una lametta kai. Lo amiamo, lo armiamo con una lametta kai. Quindi apriamo la farfalla. La lametta kai, che si caratterizza per non avere nessuna scritta e niente. la si appoggia sul farfalla. Questo non è regolabile. Questo è così com'è. Ho messo a bagno nella ciotola di Rocco Contini il Monster, il Monster della Yaki, pennello. Monster perché è nodo 30. Guardate, 30. Si legge bene. Questo è il Barber Paul Monster e la fibra è taccido, la fibra del sintetico. Molto molto valida. Montiamo un sapone italiano di Chofon Singh intenso, bergamotto, nero lì, forte. Italiano e torinese, è prodotto a Torino. Si sente effettivamente che è una fragranza molto forte. Questo non ne auguriamo oggi mai usato. Quindi prendiamo il pennello. Il Monster è terribile. Guardate quanto è grosso. Un sintetico di ultima generazione, della Yaki, questa marca cinese che però produce... Invece questo suono italiano che ha un nome che ricorda la Cina, ma prodotto in Italia è italiano. Andiamo a prelevare direttamente con questo ciuffone il sapone della confezione. Questo ha la pioranza, eh? Il ciuffo di Taxido è una delle ultime generazioni di sintetici. veramente di buona qualità. Vedete che preleva già senza essere neanche bagnato. Sono inumidito. Preleva già una quantità di sapone sufficiente. Ecco qua. Adesso andiamo a montarlo in ciotola. Vedete che subito prende un po' d'acqua. Si spregiona un ottimo sapore agglumato. Il pennello assorbe veramente tutto, eh? E' un'idromola. Questo è un monster. E' un monster perché è ostromoso, eh? 30! Rispetto alla media che è 24, 26, 22. Lo faccio vedere vicino ad esempio a un Chubby 2 sintetico. Ecco qua. Guardate quanto ha montato bene. Vedete? Asciocchiamo il viso. e... Chiaramente prende tutto il viso questo pennello quando si apre. ma chiaramente non si apre come un maiale o come un tasso però c'è da dire che le dimensioni pareggiano questo piccolo limite della fibra ma la fibra eccezionale rispetto ai sinti ricino una volta barbari tre giorni la fibra devo dire che sul viso è molto delicata questo ciuffo taxido che la IACI produce in varie versioni e con vari manici e in varie dimensioni anche tra l'altro a prezzi tutto accessibili cerchiamo un attimo il rasore Qshave armato con le CAI Questa testa che ricorda molto da vicino le teste vintage del giretto è armata con questa lama e allo stesso tempo efficace e delicata quindi non è aggressiva però taglia cioè nel senso che ha una posizione giusta ecco qua già così siamo praticamente funziona questo Qshave ma chiaramente riprende come dicevo prima progetti antichi ma l'efficacia c'è e anche la qualità del materiale non sembra male 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 solido seconda insaponata con il nostro mitico IACI abbiamo preso due dei IACI e adesso sto spiegando il terzo con un ciuffo diverso il secondo è il Ferrari 26 in questo caso è uno più piccolo è obbligo ma devo dire che saranno le CAI sarà che con questo tipo di testa io ho abbastanza confidenza ma non c'è più niente già così il CAI CAI è mostruosa secondo me CAI è la migliore per me sono i miei gusti del CAI è la più efficace perché Federa è ottima taglia altrettanto bene ma è più rigida è molto più rigida e per come è la mia esperienza necessita una mano un pelo più accorta CAI è altrettanto tagliente ma è più morbida e secondo me ma qui potremmo parlare per delle ore abbiamo varie teorie anche in rete leggo di tutto secondo me Federa necessita o di una mano attentissima e sensibilissima che magari uno può avere ma in momenti magari di fretta il contropelo sarà una formalità in momenti di fretta potrebbe essere è un problema doversi concentrare sul tipo di sciacquo di isola ultima passata leggera CAI invece quindi Federa bisogna un rasoio che l'addomi un attimo quindi i limiti diciamo un po' l'efficacia perché è forse troppo efficace però è ottima Federa stiamo parlando del top stiamo parlando di insomma di di campioni della meta stiamo parlando quindi di un'isola protezione personali protezione personali che possono non trovare d'accordo molti molti altri rasatori che sostengono invece magari che la Federa sia la migliore assolutamente migliore migliore per noi migliore per la nostra resa e lei cercai io lo trovo più resiliente usare un termine che va di modo da oggi cercai dove la metti sta e con una mano ovviamente allenata perché anche questa è una rama che non perdona non è una rama facile offre veramente prestazioni super Federa le devia molto bene con il suo rasoio con il Federa ASD2 chi ne ne massimizza l'efficacia minimizzandone gli eventuali inconvenienti che invece è universale più universale più universale bene diciamo che qualche ritocchino ma siamo a posto bene cerchiamo il viso cerchiamo un attimo l'attrezzatura velocemente solo per mostrarla un secondo molto rapidamente allora tanto tamponiamo il viso e prima di mettere la barba facciamo un attimo una riflessione allora Cushave modello diciamo simile gilette ecco facciamo così vintage prendiamola la metta e la mettiamo nel suo cimitero insieme ad altre questo è un rasoio che mi ha soddisfatto a un prezzo assolutamente contenuto riprende un progetto ovviamente storico però funziona bene funziona bene e garantisce una giusta esposizione della lametta che non è né troppo cattiva ma nemmeno troppo delicata e insomma è un buon compromesso per chi vuole spendere poco comunque avere un rasoio a far farla di questo tipo qua io sono rimasto è lungo è il manico sono rimasto molto soddisfatto quindi insomma un bel attrezzo anche se chiaramente fa parte della categoria dei rasoi low cost il monster tuxedo 30 questo è mostruoso perché lo vedete anche voi che è mostruoso questo è il confronto al 26 il 26 e il 30 insomma c'è ancora bagnato chiaramente sempre gli acchi quello che è impressionante è vederlo confrontato con un CAB2 è proprio un buon mostruoso però funziona bene funziona bene perché offre un un buon backbone offre incorpora molto bene mangia molto sapone ma lo restituisce altrettanto quindi per chi ha viso grosso come il mio comunque il 30 è una misura che va bene magari per chi più piccolo potrebbe andare bene la misura di 26 24 comunque questo la fibra è taxido consigliata anche per il prezzo che è assolutamente abbordabile dopo barba abbiamo detto che il sapone era bergamotto rimaniamo a Torino al settimo torinese extra cosmesi donaldo ciniello bergamotto di calabria agitiamo perché le barba del don sono sempre da agitare quanto hanno sono artigianali quindi hanno gli oli essenziali devono mischiarsi ogni volta con la soluzione bergamotto su bergamotto ottimo che questo qui stiamo parlando di prodotti li riconosciamo già molto molto buono ebbene che dire buona domenica a tutti e buona barba a tutti per chi non l'ha ancora fatta alla prossima